La conferenza internazionale dei ministri della cultura ha esposito e conclusa con l'approvazione della dichiarazione di Milano, un documento congiunto con cui gli 83 paesi partecipanti condannano la violenza contro il patrimonio culturale mondiale. Il meeting era parte di una serie di eventi contemporanei all'esposizione universale in corso in Lombardia.